Inclusione sociale e integrazione, parole che qui ripetono sempre, hanno realizzato un sogno, vogliono che duri il più a lungo possibile. Il Bar Corsaro è negli spazi dell'ex ospedaletto pediatrico di Trani, al bancone ci sono gli studenti dell'Istituto Alberghiero Aldomoro e gli utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale della ASL. Attraverso il lavoro la terapia è un sostegno che noi abbiamo sempre voluto sponsorizzare, che abbiamo voluto portare al centro della nostra attenzione di inclusione e di presa in carico dei pazienti del Dipartimento di Salute Mentale. Non è la prima volta che si fa una cosa del genere attraverso il lavoro, ma questa volta ci abbiamo voluto aggiungere un qualcosa veramente di più, che è un qualcosa di estetico, un qualcosa di strutturalmente funzionale, ma soprattutto nella logica della grande inclusione. Il progetto è stato promosso da Legambiente Puglia, finanziato con 419 mila euro, di cui 89 destinate alla ristrutturazione del baretto. Ci hanno lavorato il comune di Trani, le cooperative Questa Città e Campo dei Miracoli, l'associazione Terra Madre e Migrantes. L'obiettivo è che il baretto diventi luogo di inserimento socio-lavorativo di giovani fragili. E anche che diventi in questo luogo un punto di ritrovo che valorizzi questo polmone verde al centro della città.